Ieri è stato l'ingresso del Padre Custode perché la prima domenica di avvento è stato un ingresso normale nonostante che non c'era gente come ogni anno e poi oggi abbiamo fatto la messa che hai visto quanta gente che c'era c'era tantissima gente venuta a chiesa tutti sono venuti a pregare tutti sono venuti a pregare per la pace e veramente la gente ha bisogno di di pregare ha bisogno della pace e vogliono tutti vogliono che sia realizzata questa pace ieri anche doveva essere l'ascensione dell'albero betlemme con evento molto grosso veniva tutta la gente da tutto il mondo ma è stato cancellato sono stati cancellati tantissimi eventi perché la gente non sta bene anche quasi quasi dal 7 di ottobre la gente di betlemme sono un lutto di questa situazione di tutti quelli morti che sono a casa anche dappertutto anche nel giordani anche a betlemme in questa situazione dal 7 di ottobre fino ad oggi sono stati uccisi tante persone sono state uccise e arrestate anche tante persone anche ferite tante persone allora la guerra è dappertutto e per questo betlemme doveva essere tutti avventi e tutti eventi e tutti celebrazione ma triste betlemme quest'anno purtroppo